L'assessore regionale per l'economia Gaetano Armao e quello per le autonomie locali Bernadette Grasso hanno firmato il provvedimento di riparto e le risorse di parte corrente, circa 282 milioni di euro, da trasferire ai comuni per l'anno 2017, così come stabilito dalla legislazione vigente e nella consapevolezza ha dichiarato la stessa Grasso che le nostre risorse sono inferiori a quelle inizialmente previste e non per colpa di questo governo vogliamo assicurare una particolare attenzione del governo musumeci verso gli enti locali e ciò al fine di valutare anche la possibilità di incremento di queste risorse nella legge di stabilità per l'anno 2018. Dal canto suo lo stesso musumeci ha anche ammesso che c'è ancora tanto da lavorare per rimettere comuni e province nelle condizioni di tornare ad essere il primo punto di riferimento sul territorio, allo stesso tempo di poter assicurare quelle risorse necessarie per i servizi essenziali senza ritardi, interruzioni e incertezze. Per musumeci quindi la regione deve tornare ad essere sostegno e non controparte come finora è stata nell'attività di protagonismo degli enti locali in Sicilia.